Un cordiale saluto amici di WeSport, bentrovati a Campofranco, si gioca la decima giornata nel campionato di terza categoria, provincia di Caltanissetta, calcio Campofranco, ospita Caltanissetta Soccer. Prima gara del girone di ritorno dopo che nell'ultimo turno il calcio Campofranco ha vinto per 1-0 contro la Mogela, il Caltanissetta Soccer ha pareggiato per 0-0 contro lo Sporting Club Campobello, vediamo la formazione dei padroni di casa Alonji, Lobue, Monreale, Pera, Adamo, Giuseppe Scozzaro, Caltagirone, Paolo Scozzaro, Di Leo, Libari, Falletta Partiamo allora col film del primo tempo da Campofranco, prima chance offensiva dopo 5 minuti lancio lungo per Falletta che con un lob beffa il portiere, nota Rigo e il vantaggio dei locali 1-0 dopo appena 5 giri di lancette, la firma è quella di Francesco Falletta al tredicesimo potrebbe reagire il Caltanissetta Soccer su questo retropassaggio di Lobue, Cusimano però non ne approfitta anticipa l'uscita di Alonji ma il pallone termina fuori, minuto 20 ancora una volta il Caltanissetta Soccer con City beche da posizione centrale calcia trovando la risposta dell'estremo difensore al trentatresimo ultima occasione del primo tempo, ancora degli ospiti, palla lunga di Arra in area cerca un tentativo di tiro cross che però non impressiona l'estremo difensore del calcio Campofranco così fa in archivio il primo tempo, 1-0 per i padroni di casa decide fin qui il gol realizzato al quinto di gioco da Francesco Falletta si parte con la ripresa al cinquantatresimo, arriva il gol del pareggio cross tagliato e perfetto di Coulibaly dalla destra Cusimano, torsione da gran giocatore ed è gol dell'1-1 tutto riequilibrato a Campofranco quando al cinquantanovesimo c'è una nuova chance offensiva Caltanissetta Soccer che si fa preferire adesso duettano giallo e City beche, lotto ospite, prova ma colpisce male e mette sul fondo al sessantacinquesimo si rivede il calcio Campofranco col calcio di punizione un tentativo di colpo di destra che finisce leggermente a lato ancora un tiro da fermo al settantesimo per i padroni di casa siamo ai 25 metri dalla porta avversaria il pallone viene però letto bene da Notarrico che riesce a respingere minuto 78, ancora una punizione, la deviazione di testa e di tona che per poco non fa 2-1, ci avviciniamo al triplice fischio minuto 88, rimessa laterale, la sfera viene respinta arriva al limite dell'area, dove c'è lui, dove c'è Antinoro che fa 2-1 e porta avanti il calcio Campofranco nella sfida con le Caltanissetta Soccer, un gol pesantissimo perché garantirà la formazione padrone di casa dopo il triplice fischio di raggiungere il secondo posto in classifica è infatti così che termina il match di Campofranco con la vittoria per 2-1 dei padroni di casa sulle Caltanissetta Soccer adesso la vetta vista soltanto un punto un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre, alla prossima! grazie a tutti!